Dengue, focollaio nelle Marche, Meconi, farmacie essenziali nell'informare la popolazione. Le farmacie nel percorso di prevenzione vaccinale, procaccini, capillarità, valore aggiunto. Istituto Superiore di Sanità in aumento, i casi di meningococco, pneumococco e emofilo, prevenibili con i vaccini. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Le farmacie hanno un ruolo importante nell'informare i cittadini nei momenti di emergenza sanitaria. Lo ha sottolineato a filo diretto Marco Meconi, presidente di Federpharma Marche, parlando dell'emergenza Dengue nella zona di Fano e Pesaro, dove si sono registrati 102 casi. Per contrastare la diffusione dell'infezione, le farmacie associate a Federpharma sono riuscite a rendere disponibile, a prezzo calmierato, il kit anti-zanzara, ha spiegato Meconi. Inoltre, ci siamo dotati dei test serologici per vedere se è avvenuto il contagio. Le farmacie danno un importante contributo all'ampliamento della copertura vaccinale contro l'influenza e il Covid, confermandosi anello di congiunzione tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale. Lo ha affermato il vicepresidente di Federpharma Nazionale, Alfredo Procaccini, intervenendo all'incontro valorizzare le farmacie e i servizi nel percorso di prevenzione vaccinale che si è tenuto a Roma. Procaccini ha sottolineato come il valore aggiunto delle farmacie risieda nella loro capillarità sul territorio, che rende facilmente accessibili i servizi sanitari fondamentali, quali sono le vaccinazioni a tutti i cittadini, ovunque, e si risiedano anche nelle aree più interne del Paese. Nel biennio 2022-2023 sono aumentate le segnalazioni dei casi di malattie batteriche invasive causate da meningococco, epneumococco e emofilo, tre infezioni in gran parte prevenibili con le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Il dato emerge dal rapporto della sorveglianza pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, che evidenzia il cambiamento di trend rispetto alla diminuzione del numero di segnalazioni per i tre patogeni registrata nel biennio 2020-21. Questa sarà la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del Telegiornale di Sederfarmaciano. Buona giornata! Grazie! 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 Grazie!